sulla pagina ufficiale di urdex punto finance un dex su arbitrum anno da poco ha lanciato un evento testnet e per celebrare questa occasione urdex finance mette in palio un monte premi totali del valore di 30 mila dollari in token urd che è l'utility token della piattaforma ma che cos'è urdex urdex finance è un exchange decentralizzato come ho detto sull'accendi armitrum che punta a risolvere il problema della liquidità consentendo a varie forme di liquidità di connettersi al mercato in modo decentralizzato questo exchange include un dex uno scambio perpetuo tutto sempre decentralizzato strumenti di staking e rendimento framework mm è un launchpad per le start up per raccogliere capitali e generare la liquidità iniziale che gli permette di evolvere nel loro obiettivo di crescita del loro progetto il letto che nel nativo che è un token utility e un token governance può essere guadagnato ovviamente fornendo liquidità d'urdex partecipando alle attività di staking completando delle attività oppure degli eventi e credo che inseriranno anche la possibilità di fare del referral link facendo trading sugli exchange che vengono supportati una sorta di aggregatore di dex e contribendo allo sviluppo di urdex ci sarà poi una vendita pubblica che offrirà quasi il 2 per cento dell'offerta di urd che equivale a un milione 670 mila token su una fornitura totale di 100 milioni di token farò comunque poi una recensione dettagliata quando partirà in main net solite raccomandazioni poi partiamo mi raccomando per di e drop non utilizzate wallet che solitamente usate per depositare i vostri fondi utilizzate dei wallet non custodia diversi su diversi browser non usare per appunto il tuo wallet personale quando si va a ricevere un token sconosciuto prima di interagire bisogna controllare che non sia token scam nella community oppure online quando si riceve un token drop controllare che il token sia stato rilasciato veramente però nel dubbio che ad esempio alla community di riferimento alla nostra community mi raccomando ragazzi seguite queste piccole linee guida perché incappare in scam è veramente facilissimo con i drop tutto ci dobbiamo collegare e vi lascio a tutti i link in descrizione su zelai punto io e andare a compiere tutte queste piccole task per andare a guadagnare dei punti che sono dei punti esperienza per se si arriva ad avere dei buoni punti in classifica si possono avere dei drop aggiuntivi quindi provate a darci molare tutti questi punti ed avere un buon risultato in classifica vi ricordo che questo è un extra reward però già che ci siamo fatelo non vi preoccupate se qualche task può essere irraggiungibile o avere dei problemi perché come ben sapete in queste cose soprattutto nelle test ci sono sempre dei problemi poi c'è un alta carico della rete tantissimi utenti stanno facendo questo drop stanno partecipando a questi drop quindi è normale essere intasati comunque dovete seguire il loro account su telegram dovete unirvi al loro server discord e seguire il loro profilo di twitter questi sono i primi tre passaggi base che servono a loro per avere una maggiore visibilità e comunque a noi per riuscire a essere sempre informati su quello che sta avvenendo dopodiché ci rispostiamo su urdex punto finance e clicchiamo su test net si aprirà questa schermata dovremo andare a connettere il nostro portafoglio metamask su arbitrum guerli non vi preoccupate se non l'avete impostato perché cliccando su connetti wallet vi farà impostare la rete in qualsiasi caso non ve lo faccia fare in automatico andate su chain in list è andata ad unirvi è data raggiungere la rete andandola a cercare nella barra di ricerca dopodiché bisogna andare su fauset e andare a richiedere i token test quindi andiamo a richiedere ed usdt btc usd si vi ricordo che questi sono token fittizi token test quindi non hanno alcun valore fate questa task per tutti i token disponibili così vi arriveranno in poco tempo nel wallet perfetto e ora che abbiamo ricevuto i token test non ci resta che fare delle piccole operazioni su tre de converti exchange liquidity ovviamente lanci pad no però possiamo già approvare queste piccole operazioni mentre l'operazione non è che devono avere un senso non state a pensare il trade va bene il trade va male fate solo dei semplici piccoli test per vedere come funziona la piattaforma non è necessario andare a fare tutto correttamente se momentaneamente vi da che le fidi e tirium non avete abbastanza e tirium per poterle pagare aspettate veramente che siano accreditate sul vostro wallet perché ci mette un pochino di tempo o se no è andate sul fauset di go early o attendete il la possibilità di nuovo dopo le 24 ore di andare a riscattare degli altri tiri un tramite il fauset comunque approvate le vostre transazione fate le vostre conversioni del caso e cercate di racimolare più punti esperienza possibile nella pagina che abbiamo visto precedentemente fate anche le conversioni andate ad approvare tutte le vostre operazioni una cosa carina che vi chiederà e quanto sarà il massimo permesso di spesa che si possono utilizzare all'interno di questa operazione ovviamente è una fase test quindi io metto anche il massimo 100 euro ma quando passerà in main e te ricordatevi che questo è importantissimo per evitare che in ogni singola transazione se ci fosse qualcosa di sbagliato qualche smart conta malevolo non si va ad approvare un limite di spesa infinito quindi usiamolo come protezione andiamo anche a fare un exchange andiamo a cambiare gli sd per i token urd insomma fate un po di test come avete capito passiamo poi a fornire anche la liquidità andiamo a fornire liquidità con urd e e tirium andiamo a inserire i nostri ammontari andiamo aggiungere liquidità qualora non avessimo a sufficienza ci permettono di suo apparlo una volta fatto i nostri suo per aver avuto le quantità corrette da andare a inserire nella sezione liquidity ci viene permesso anche di andarlo a levare quindi aggiungiamo liquidità e preleviamo preleviamo la nostra liquidità come ultima operazione possiamo andare inserire il new rd nella urd ex dao vi ricordo che se finite le tire un test dopo 24 ore potete andarli a richiedere quindi ricapitolando dovete riuscire ad avere un punteggio comunque a stare nella classifica più alta all'interno di lei punto io e poi andare a effettuare tutti i test possibili all'interno di urd ex finance nella sezione test net